Click! Ben ritrovati i miei cari inventori del Luziona Barcarcio. Questo sarà un video flash, video flash, perché? No, non starò qui adesso a raccontare tutte le trattative che sono in essere, ma che da qui alle 20 ne passano di ore, quindi potrebbe esserci il tutto e il contrario di tutto, per cui stare qui a parlare dei vari Rugani, dei vari Martinez, dei vari Gignac, dei vari ritorni di inglese e quant'altro, non avrebbe senso. Rimandiamo tutto a questa sera dopo le 20 con un bel video di chiusura del calcio mercato anche qui a Bulagna e faremo il punto della situazione. Quindi mi raccomanda, attivate il campanaccio pastorale questa sera dopo le 20, state sempre lì, click sul refresh sul canale dell'Ugione Barcarcio. Ma questo è un video altrettanto importantissimo, perché? Perché è arrivato il momento, è arrivato il momento. C'è la comunicazione, c'è la comunicazione. Giovedì 4 febbraio, ore 21 in punto. Amrachmandemi cari inventori, tenetevi liberi, perché? Ebbene sì, ci sarà una nuova live storica a Luziona Barcarcio. Va bene, segnatevelo. Giovedì 4 febbraio, ore 21. Non ci sarete per nessuno all'infuori del qui presente, sommo nonché erudito, dottor Luziona. Dottore, grazie. Quindi, a domanda delle vostre partner o partners, se ne avete più di una, ci siamo capiti, buon gustai, voi dovrete dire, è vero che non siamo più in zona rossa? Va bene, è vero, adesso siamo in zona gialla. Ma giovedì 4 febbraio, alle ore 21, io sarò in zona rosso-blu. Così gli dovete rispondere, ok? Questa è la risposta gentilmente offerta dal qui presente dottor Luziona. Bene, in quell'occasione lì parleremo di tutto, parleremo della situazione che è in essere qui a Bologna, parleremo del futuro di Big On e compagnia Belle Cantante, parleremo di Saputo, parleremo di Calcio Mercato, parleremo in sostanza di tutto quello che gravita attorno ai nostri colori rosso-blu. Quindi preparatevi le domande scritte, ok? Così quando si arriverà al momento saprete che cosa chiedermi. Va bene? Perfetto! Ragazzi, adesso io vi saluto che ho un paio di bar in cui è stata richiesta la mia somma presenza oggi, visto e considerato che si torna in zona gialla e tutti vogliono il dottor Luziona come il prezzemolo. Quindi a stasera che escerà il nuovo video post-calcio-mercato e a me raccomando, vi ricordo per l'ultima volta, giovedì 4 febbraio, ore 21, Luziona-Barcaccio in live, ok? Good! Iscrivetevi al canale, condividete con tutti i vostri amici di Federosso-blu, lasciate sempre un mi piacino ai video di Luziona-Barcaccio e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar! Grazie! Grazie!